Si chiama Blue Basket Mantua, il progetto di palacanestro per la disabilità lanciato dalla polisportiva San Pio X è nato dalla collaborazione tra le cooperative RSD e Rossonano del Consorzio Solco, Fior di Loto e la Stazione. Nel 2019-2020 sono 5 i gruppi di attività sportiva che hanno aderito all'iniziativa, per un totale di 37 atleti. L'idea è stata quella di dare la possibilità a persone con autismo, ma anche persone in generale con disabilità intellettiva e relazionale di poter accedere a un'attività sportiva adattata e dedicata. La palacanestro è uno sport che più di altri dà la possibilità di potersi includere insieme alle altre persone. Il nostro obiettivo è quello di renderlo inclusivo il più possibile e quindi anche così facendo collaborare con noi i ragazzi del settore giovanile della polisportiva San Pio. Ci siamo sempre dedicati ormai da 30 anni a un settore giovanile, prima calcio e poi basket. E questa iniziativa ci ha colto un po' di sorpresa, ma una sorpresa molto piacevole. Una sorpresa che in questi tre anni ci ha dato grandissime soddisfazioni, soprattutto nel vedere i nostri ragazzi, chiamiamo normodotati, aiutare e integrarsi con questi ragazzi qui. Una iniziativa finalizzata all'inclusione a fronte del numero crescenti di casi di disabilità intellettiva e relazionale sul territorio. Fino a qualche anno fa parlavamo di un caso ogni 100 bambini, ogni 100 persone. Ora stanno aumentando i casi, per cui arriviamo anche a un caso ogni 67 persone. Questo ci fa pensare che ogni quattro bambini che arrivano in neuropsichiatria, uno ha una diagnosi di autismo. La polisportiva San Pio è riuscito con questo progetto, Blue Basket, a sostenere i bisogni di tante persone e è iniziato con un piccolo progetto che si sta espandendo in un'ottica di inclusione. Quanti bambini che sono